Inaugurato l'ospedale per malati covid all'interno dell'ex Creaf. A Santo Stefano eseguiti poco più della metà degli interventi chirurgici, l'equipe dell'ASL sempre più attive nelle cliniche convenzionate. In arrivo dal comune oltre un milione di euro per buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. Come avete sentito dai titoli è stato inaugurato questa mattina il centro covid Pegaso, il primo completamente dedicato a pazienti contagiati dal covid in Toscana. Si tratta di un presidio d'emergenza che potrà ospitare degenze di malati affetti dal covid per allentare la pressione sugli ospedali. Realizzato nei locali dell'ex Creaf potrà ospitare fino a 191 malati. E dal 19 dicembre anche al Santo Stefano saranno disponibili altri 60 posti dedicati ai pazienti covid. Ci spiega tutto Stefano De Biasi. È stata una mattinata di inaugurazione quella che si è vissuta in città. Prima il taglio del nastro qui all'ex Creaf dove sono stati allestiti 191 posti letto destinati ai pazienti covid. E poi l'annuncio di un'altra inaugurazione, quella delle ali del Santo Stefano. 60 posti letto che verranno inaugurati a partire dal 19 o dal 20 dicembre. In questo modo la città di Prato ma anche l'Asl Toscana Centro, l'area metropolitana potranno contare su un numero molto maggiore di posti letto per pazienti covid. Non solo, c'è un'ulteriore novità che è quella del secondo lotto qui all'ex Creaf che verrà inaugurato per l'Epifania e che quindi aumenterà ancora la capacità di risposta per il distretto e per il territorio. Il presidente della regione Eugenio Gianni ha parlato di una giornata molto importante. Il sindaco Biffoni ha detto che è stato un intervento miracoloso perché nel giro di 30 giorni questo che era un capannone tutto da sistemare è diventato un vero e proprio ospedale. Le istituzioni lo hanno ricordato, non è un ospedale da campo ma è qualcosa che resterà anche per il futuro della città e per il futuro della sanità. 191 posti sono sostanzialmente il 10% dei posti covid che oggi esistono in Toscana e considerate che noi arriveremo dopo questo intervento che io chiamo Prato 1 a realizzarne altri due a Prato, il Palazzo Accanto, l'ospedale e uno a Lucca. Questo consentirà di avere 500 posti letto per covid. Restiamo in ambito sanitario. All'ospedale di Prato vengono effettuati soltanto poco più della metà degli interventi chirurgici. L'equipe dell'ASL sono sempre più attive nelle cliniche convenzionate. La chirurgia in service aumenta nel periodo covid ma a Prato i numeri erano già molto alti anche prima. Il fenomeno si spiega anche con il rapporto consolidato con Villa Fiorita. Il 31,6% degli interventi chirurgici effettuati a Prato dal personale della ASL nel periodo marzo-ottobre 2019 è stato fatto in service nelle sale operatorie di cliniche convenzionate. Un dato che nello stesso periodo del 2020, a causa del covid, è cresciuto fino a raggiungere il 46,6% del totale. Si tratta di una particolarità tutta pratese, nonostante al Santo Stefano ci siano 15 sale operatorie considerate uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale inaugurato sette anni fa. Negli altri territori dell'ASL Toscana Centro, escludendo dal conteggio il dato pratese, si è andati ad operare in service nelle cliniche private convenzionate soltanto nel 2,5% dei casi nel marzo-ottobre 2019 e nel 15,5% dei casi nel marzo-ottobre 2020. Il dato, fanno sapere dall'ASL, si spiega con il collaudato rapporto con la Casa di Cura di Villa Fiorita, l'unica struttura pratese tra le nove convenzionate nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, dove l'equip degli ospedali pubblici si recano per operare. L'ospedale Santo Stefano è il più grande, ha ottimi professionisti che richiamano pazienti provenienti da fuori per gli interventi chirurgici e liste di attesa superiori a tutti gli altri. Per questo si rende necessario un maggior numero di attività esterna, spiega Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento Chirurgico dell'ASL Toscana Centro, che ritiene ottimale lo storico rapporto di collaborazione con Villa Fiorita. Ospedale di Prato, che nel periodo 1 marzo 30 ottobre 2019, in epoca quindi ante-Covid, ha ospitato 2.811 interventi chirurgici, una media di 11 al giorno, meno di uno al giorno per sala operatoria. Nello stesso periodo sono state fatte dai chirurghi della ASL in service, nel privato accreditato, 1.302 operazioni. Nel periodo marzo-ottobre 2020, gli ospedali toscani sono stati chiamati a fronteggiare l'ondata pandemica. Interi settori e anche alcune sale operatorie sono stati riconvertiti a degenze Covid o a terapie intensive, per cui l'attività chirurgica è stata riorganizzata e i volumi di interventi si sono ridotti. Nell'intera ASL Toscana Centro, le operazioni eseguite negli ospedali sono diminuite del 42%. Il maggior ricorso all'erogazione congiunta col privato, più 81%, ha consentito di contenere ad un meno 32% il calo complessivo delle prestazioni. E parliamo adesso di emergenza economica, perché sono in arrivo oltre un milione di nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Le domande si potranno presentare a partire dal 14 dicembre. In arrivo nuove risorse per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Il governo ha stanziato per il comune di Prato oltre un milione di euro, che saranno impiegati per buoni spesa e iniziative a sostegno delle necessità di sostentamento più urgenti. Dal 14 al 21 dicembre sarà possibile presentare la domanda online dal sito del comune, oppure tramite telefono con compilazione tramite call center. La graduatoria sarà probabilmente disponibile tra fine dicembre e primi giorni di gennaio. Si stima che l'erogazione dei buoni potrà avvenire nei primi dieci giorni di gennaio. Il comune fa pello ai cittadini ad utilizzare questo strumento, che è di tipo emergenziale di una tantum, solo per situazioni di grave necessità di tipo alimentare e in conseguenza dell'emergenza. Dunque, per fare chiarezza, per i momenti di assoluta necessità e di urgenza immediata, noi attiveremo dei fondi. Fra l'altro colgo l'occasione per ringraziare la fondazione Ari Prato e le Spes Docet, che insieme a noi stanno contribuendo ad avere questi fondi immediatamente spendibili per la fase prenatalizia. Poi abbiamo stanziato un ulteriore circa poco meno di un milione di euro per i buoni spese, un po' come facemmo a marzo. Stiamo facendo un bando, però imparando anche dall'elezione di marzo, in cui uscimmo in maniera molto rapida, quindi abbiamo rimesso a posto anche le cose che non hanno funzionato nel primo bando e abbiamo mantenuto quelle che invece ci hanno convinto. Uscirà il bando, sicuramente uscirà nei prossimi giorni, sicuramente prima di Natale, per i buoni spesa, non chiederemo l'ISEE, chiederemo ovviamente un'autocertificazione, e poi andremo a fare controlli successivi. Insomma, ci sarà una modalità un po' diversa per avere pronti buoni, speriamo nei primi giorni dell'anno o dell'anno prossimo. Al via oggi il cashback di Natale. Lo Stato restituisce fino al 10% degli importi delle spese effettuate da qui a fine anno, ma prima di pagare con moneta elettronica, condizione fondamentale per avere diritto a rimborso, occorrerà registrarsi all'app Io, che però subito è andata in difficoltà per i tanti accessi simultanei. Al via l'extra cashback di Natale, la campagna voluta dal governo per incentivare i pagamenti elettronici e arginare l'evasione fiscale. Da oggi sarà sufficiente effettuare almeno 10 acquisti entro la fine dell'anno, pagando con carte di credito, carte di debito, prepagate o app di pagamento, come SatisPay, Google Play ed Apple Pay, per vedersi rimborsato il 10% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 150 euro. Oltre a questa soglia totale, c'è un limite anche ai singoli rimborsi. Ciascuna spesa non potrà dare diritto a più di 15 euro di rimborso. Gli scontrini di oltre i 150 euro di qualsiasi importo porteranno dunque ad un cashback di 15 euro. L'iniziativa non è inoltre valida per gli acquisti online. I rimborsi saranno accreditati sul conto corrente comunicato al momento della registrazione, già perché per partecipare all'iniziativa occorre scaricare l'app Io della pubblica amministrazione, accedere con il proprio speed o con la carta di identità elettronica e caricare i dati delle proprie carte di pagamento e del proprio IBAN. Operazioni non semplicissime che centinaia di migliaia di italiani hanno provato a fare, con il risultato che l'app è andata in tilt tra rallentamenti e disservizi vari. Scaricare l'app Io e registrarsi al suo interno attraverso due modalità, con lo speed, l'identità digitale, oppure con la carta di identità elettronica. Proviamo con questa seconda modalità, però c'è il primo problema perché il mio vecchio iPhone 5 non è compatibile, occorre un modello più recente, dal 7 in su, per poter completare l'operazione. Bene, questo era l'ultimo servizio, il Tg termina qui. Io vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione TV Prato è per stasera alle 20.30 e che alle 21.20 andrà in onda in salute la trasmissione di medicina e benessere a cura di Marilena Achidi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie.